In Vino Civitas il salone del vino è una vetrina per tante realtà per poter esporre i propri prodotti ma in questo caso però non parliamo di vino bensì di birra del birrificio a grado. Esattamente, noi ci siamo un attimino differenziati, appunto la gradazione è leggermente più bassa però sì, produciamo birra. L'idea è nata dal mastro birraio Fabio che dopo un viaggio in Belgio dove lui svolgeva tutt'altra attività è un ingegnere informatico e è stato attratto da questo mondo ha iniziato a studiarlo, ha iniziato a praticarlo lì, dopo diversi anni è sceso, è ritornato poi nella terra propria e con alcuni soci ha intrapreso questo percorso perché ci troviamo ad Olevano perché innanzitutto loro sono di lì però poi le acque di quella zona che è la parte fondamentale della birra insieme ad altri prodotti, insieme all'esperienza acquisita appunto dall'estero siamo riusciti a creare questo prodotto che in primis piace a noi e dopo vari e vari esperimenti io sono il tecnico birraio, siamo riusciti a creare un prodotto che in primis piace a noi appunto quindi con il tempo siamo riusciti a migliorarlo e piace perché alla fine la parte importante diciamo è quella siamo da diversi anni ormai sul mercato e lo scopo è quello di creare delle birre semplici, beverine che possano piacere appunto e niente stiamo continuando così diciamo che abbiamo ancora tanta tanta strada da fare però non importa anche se si passano 24 ore al giorno non lo facciamo con tanto tanto amore, è questa passione che appunto ci porta avanti